Scoperta dalla Guardia di Finanza di Terni una maxifraude fiscale da oltre 7 milioni di euro, denunciate una ventina di persone, tutte di origini cinesi, e sequestrati immobili, auto di lusso e conti correnti. L'indagine ha riguardato sette società con sede a Terni, operanti nella produzione di articoli di abbigliamento, che venivano poi rivendute ad un'azienda primaria con sede nel centro Italia.